Il treno regionale 91518 proveniente da Robico, in diretto a Verona Porta Nuova, è in arrivo al binario 1. Arrivare a Bobolone per vedere la fiera di San Biagio in treno può essere veramente una buona idea, per la comodità perché siamo equidistanti sia dal piazzale Aldomoro che dalla piazza centrale sono circa 400 metri. E poi voi mettere la comodità di non avere una macchina da parcheggiare e adesso andiamo sul piazzale. Una volta raggiunto Bobolone e arrivati qui su piazzale Aldomoro incontrerete questa grande tensa struttura e questo sarà il centro della fiera perché questo è il salone dedicato ai sapori del territorio che ospiterà circa una ventina di aziende specializzate nella produzione di tipicità agroalimentari che nascono via Bobolone o comunque nell'immediato circondario. E questo è frutto di una scelta ben precisa che avete compiuto perché Marco? Abbiamo compiuto perché abbiamo compreso il nostro valore di aziende della trasformazione. La fiera agricola per noi è un valore importantissimo per quanto riguarda la lavorazione della terra e la realizzazione delle materie prime, ma abbiamo un ulteriore importante valore sul nostro territorio che è quello delle aziende di produzione, dalle pasticcerie alla pastifici, a birrierie, a birrifici. Abbiamo addirittura una grandissima cantina, allevamento di bestiame, quindi trasformazione della carne. Questo ci ha permesso di comprendere che la fiera agricola non è più solo lavorazione della terra ma è capacitare di trasformare un prodotto coltivato in un prodotto lavorato per entrare sulle nostre tavole. Ma il bello è che queste cose buone, sono non belle da vedere, però la fede senza le opere rimane a lettera morta e io sono molto sensibile in materia. Ci sono i laboratori del gusto per avvicinare produzione e consumo, vero? Perfetto, i laboratori del gusto hanno proprio questo scopo, di far incontrare il consumatore finale con le aziende di produzione. Il sabato, la domenica, sia la mattina che il pomeriggio, potete avere questa opportunità di incontrare le aziende e i loro prodotti che saranno spiegati direttamente da chi li lavora. Quindi ci sarà anche un piano di cottura, ci sarà tutto quello che serve per farvele anche assaggiare queste cose. Assolutamente, certo. C'è scherza mia qua. No, no. Un evento atteso anche perché, Remo, arriva dopo un anno di sosta portata? Eh sì Stefano, purtroppo con la pandemia si è dovuto rimanere tutti fermi. Adesso ripartiamo, adesso vogliamo ripartire forte, bene e decisi. Ripartiamo con Luna Park, come gli anni precedenti, ripartiamo con tutto il nostro piazzale Aldo Moro, con i nostri agricoltori. Che sono sempre al centro comunque. Assolutamente, i nostri agricoltori sono al centro della nostra economia. Inoltre abbiamo la nuova tensostruttura Fattoria in Fiera per gli animali e per le varie associazioni di categoria. È bene ricordare che tutto il comune alla fine è coinvolto, non soltanto quello che succede qui, perché anche in centro c'è qualcosa di più bello. Esattamente, quest'anno abbiamo pensato di coinvolgere anche la via centrale, via Garibali e via centrale, con un villaggio del gusto. Sarà dedicato al gusto, sarà dedicato alle aziende, diciamo, creativi. Ci saranno creativi, ci saranno attrazioni per i bambini. Quest'anno abbiamo pensato proprio di ripartire, vogliamo ripartire, tutta l'amministrazione ha voglia di ripartire e ripartire bene. Il piazzale Aldomoro è qui, ma il mercatino, il centro storico, insomma, sono 7-800 metri. 7-800 metri. Abbiamo previsto un trenino navetta. Questo trenino navetta servirà proprio per navetta, per portare i nostri, diciamo, visitatori, i nostri visitatori, dal piazzale Aldomoro ai vari punti, cioè in centro paese, che ci sarà, come dicevo prima, via Garibali, il villaggio del gusto, dopodiché al Luna Park e dopo si ritorna nel piazzale Aldomoro e anche faremo delle altre fermate sulle varie, diciamo, parcheggi che saranno identificati. Quindi una possibilità di vivere smart, easy e sul trenino, tutta la fiera, ma direi di più tutto quanto il paese. Insomma che siamo, dopo un anno di attesa, finalmente, si riparte 18-21 marzo, piazzale Aldomoro e non solo a Bovolone. Vi aspettiamo. Grazie.